Oh, fra, mai hai visto quante visualizzazioni ha fatto la parodia di Moonlight di XXXTentacion? Sì, fra, tipo 10.000! E se diventassi tu XXX? Ma in che senso? Eh, fra, con l'intelligenza artificiale ti facciamo fare una canzone con la sua voce. E proviamo, mia! Sì, fra, con l'intelligenza artificiale. 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 Sì, fra, con l'intelligenza artificiale.